Come promesso torniamo in diretta con il nostro primo ospite di oggi, il nostro ospite di oggi direi, in studio che è, come vi anticipavo, Max Brigida. Max è un imprenditore e creatore del Made in Italy Tecnologico, una storia molto bella che oggi ho il piacere di ascoltare con voi in diretta, in presenza, che condividiamo con voi che siete a casa con molto piacere perché sono tanti i temi che direttamente e indirettamente ci coinvolgeranno in questa storia. Buongiorno Max e benvenuto a Padre Pio TV. Ciao Tony, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, ne sono veramente fiero di essere qua. Ci fa molto piacere, ma come ti dicevo il piacere è reciproco perché tu sei uno di quei imprenditori, giovani imprenditori, che se volessimo andare così per sommi capi potremmo definire un cervello in fuga, anche se sei molto di più e io ti definirei già da subito un cervello in movimento più che un cervello in fuga e quindi fai parte di quella fetta, ahimè abbastanza nutrita, di giovani che a un certo punto della loro esistenza per potersi realizzare ed affermare hanno dovuto fare la valigia e lasciare il proprio territorio d'origine, nel tuo caso Manfredonia. Esatto, allora innanzitutto ti ringrazio per il giovane perché un giovane cervello in fuga non me lo dicevano da qualche anno. Diciamo sì, mi è piaciuta di più l'idea del cervello in movimento, anche perché i nostri cervelli in fuga all'epoca erano negli anni 96-97, quindi quando non c'erano i social, quando non c'erano gli smartphone, viaggiare era abbastanza più topico di quello che facciamo oggi, oggi grazie alle low cost line, quindi è diventato anche più semplice viaggiare. All'epoca era un po' più complesso e l'idea è sempre stata quella di scoprire, di scoprire qualcosa. Io ricordo da ragazzino avevo questo sogno di arrivare alla linea del confine fra il cielo e il mare. Vedevo questa linea e io voglio arrivare lì. Poi con gli anni ho capito, anche grazie al mio papà che era un pescatore, le poche volte che ho potuto salire su un peschereccio, che quella linea non l'avrei mai raggiunta. Forse ho scoperto che la terra non era piatta, quindi quella linea non la potevo mai raggiungere. E questa è l'idea per dirvi, è sempre stato nella mia indole scoprire, viaggiare, cercare di capire cosa c'è più in là. Molto bella questa tua introduzione, anche questa immagine della linea, perché se vogliamo tante volte quel fatto che non esista, quel limite in realtà ti spinge a superare ogni limite, esterno ma anche interno, perché molte volte il viaggio costa impegno, sacrificio, dedizione. E tu da questo punto di vista puoi raccontarci qualche cosa, perché dalla tua biografia noi sappiamo che viaggiare è un po' un verbo caratterizzante la tua esistenza, dato che hai vissuto in molte nazioni, 18 se non dico male, tra cui Stati Uniti, Africa, America Latina. E quindi ti chiederei di raccontarci, ovviamente per sonni capi, quali sono poi i motivi, non solo i motivi che ti hanno spinto a non interrompere mai il tuo viaggio, ma anche i progetti che ti hanno portato in giro per il mondo. Allora sì, tutto parte da un elemento fondamentale che è la curiosità. La curiosità ti spinge a fare cose che magari non faresti perché non ti interessa quel tipo di situazione. Io ricordo, era da molto giovane perché faccio già le scuole superiori a Vieste, cioè dico a Manfredonia e tutti i licei, però faccio questa scuola superiori a Vieste perché anche grazie a mia mamma, mamma tipica, ovviamente pugliese, la mattina faceva alle nove, c'era già la pentola che bolliva con carne e tutto quello che conosciamo nella zona. Ho avuto sempre questa passione per la cucina. Fin da piccolo cucinavo con lei o mi mettevo con lei a capire la bellezza della cucina. Tra l'altro so anche fare le orecchiette a mano, quindi è fantastico. E seppi che a Vieste c'era questo istituto alberghiero, quindi ho detto voglio fare una passione, cioè la cucina mi piace, voglio imparare a cucinare. Allora che alle scuole medie il mio indirizzo era piuttosto geometra, ragioniere, però le vedevo molto noiose già come cose. Qui stiamo parlando di un ragazzino di 13 anni, 14 anni. Quindi vado a Vieste e faccio il pendolare tutti i giorni e questa è una cosa che a molti avrebbe distrutto perché ti alzi comunque alle sei, prendi l'autobus sei in mezza. Perché ci sono tante curve. Non c'erano le gallerie, quindi ti lascio immaginare. Però quel viaggiare, quel vedere questo territorio bellissimo che è il Gargano in un autobus, vedere tutti questi bei faraglioni, il mare, perché poi costeggi tutto da mattinata a Vieste e vedi tutto, no? E quello mi faceva sognare sempre di andare al di là. Quindi questo è stato il mio primo rapporto con il viaggio. Poi grazie all'istituto alberghiero loro ti mandano d'estate a fare le prime esperienze e la prima esperienza fuori dal territorio fu alle Isole Tremiti. Ah, che bello. All'età di 14 anni al Touring Club delle Isole Tremiti. Poi da lì è stato tutto un susseguirsi di viaggi perché ovviamente andavamo a fare stagioni estive. E poi è arrivato il militare. Nel 95 arrivò il militare, altra cosa, spinto dalla curiosità perché dovevo non farlo. Io potevo non farlo il militare, l'unico pazzo scatenato che va a fare il militare. Avendo avuto tre fratelli che già l'hanno fatto, potevo presentare i congedi e non farlo. Ma invece la curiosità di capire che cos'è, andiamo a vedere. Mi sono fatto i miei otto mesi di militare, poi ho deciso di non fare l'estate perché faceva troppo caldo, quindi ho presentato i miei congedi. Dopo il militare avevo anche fatto una piccola attività, ovviamente dentro guadagnato un po' di soldini e decisi dopo il militare di farmi il famoso interrail. Quindi prendere un treno, uno zaino con grande dispiacere della mamma. Cioè ma dove vai, cosa mangerai, con uno zaino, ma con un biglietto di treno, insomma. Ovviamente cose molto distinte fra un figlio e una mamma di 30 anni fa, 35 anni fa. Però andai e mi fermai in Inghilterra dove ovviamente all'epoca mi piacque, dico mi faccio qualche piccolo corso per imparare l'inglese perché comunque sia, quando sei curioso, quando viaggi, devi accompagnare anche le lingue. E quindi mi iscrissi a un corso, però era un corso universitario e delle volte la fortuna, che è anche un elemento importante nella prospettiva, nella carriera, nella vita di ognuno, mi è venuta incontro anche questa volta la fortuna perché era dopo, parliamo del 95-96, subito dopo la comunità europea dove mi dissero guarda che essendo un cittadino europeo la comunità europea all'epoca ha messo a disposizione delle borse di studio per promuovere che studenti di diverse nazioni europee possano studiare. Quindi io feci un'università in Inghilterra senza ovviamente investire un euro e quel colpo di fortuna l'ho preso al volo e mi prendo comunque una laurea che è in European Business, quindi applicato alle lingue perché poi era un po' particolare. Questa diciamo è già la prima parte dei viaggi, quindi anche superiori a Vieste, università in Inghilterra e poi da lì. Dove ovviamente acquisisci oltre che un titolo di studio anche la lingua ovviamente. Esattamente, impari la lingua perché studi in inglese, era molto divertente perché io studiavo anche le lingue estere, quindi spagnolo e francese, poi ho fatto un Erasmus a Parigi e un Erasmus a Barcellona, sei messe a Parigi, sei messe a Barcellona, studiavo spagnolo in inglese che era una cosa fantastica, cioè le classi erano in inglese che tendenzialmente essendo italiano è più facile che qualcuno te la spieghi in italiano e tu la impari in inglese. Anche quello era molto divertente perché pensavo fra me e me sono matto, cioè sto imparando una lingua con un'altra lingua che non conosco e quindi molto divertente. Il fatto che tu oggi sia diventato un imprenditore internazionale che non vive in Italia, poi ci dirai dove vivi, ovviamente mi fa pensare al fatto che i colpi di fortuna uno deve andarseli anche a cercare, li deve costruire, per cui prima che ci fermiamo un attimo vorrei chiederti, e vorrei fermare solo un istante su quanto sia importante che tante volte i genitori non frenino le ambizioni dei figli, i desideri dei figli, soprattutto quelle proprio rivolte alla dimensione del viaggio come esperienza di vita. Allora, io oggi sono un genitore, forse è il lavoro più duro che abbiamo, è il lavoro più duro che ho fatto, faccio e farò, perché c'è di mezzo il cuore, e quando c'è di mezzo il cuore non siamo razionali, facciamo cose irrazionali, perché è proprio il cuore che ti spinge. Io devo dire, sono stato fortunato ancora una volta di avere i genitori che ho, anche perché, dirò qualcosa forse è ovvio, i nostri genitori non sapevano cosa c'era al di là della Puglia magari, diciamo, e quindi la loro preoccupazione era piuttosto mangia, stai attento, mi raccomando, come farai, non starai in casa, quindi è vero che perdi il figlio che viaggia, ma non sai dei pericoli, non sai delle cose che ci sono fuori, no? O delle opportunità. O delle opportunità, però io oggi penso, mio figlio che dovrebbe viaggiare, sto lì, dico mamma mia, con tutte le paure che possano esserci nel mondo, però dico anche fai esperienza, viaggia, sbaglia, perché dobbiamo sbagliare, cerca di sbagliare nel limite del possibile per non recarci troppi danni, però sbaglia e viaggia, i genitori sono fondamentali. Perfetto, noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi torniamo al tuo percorso per capire che cosa stai facendo oggi come imprenditore e anche come genitore, per cui qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo in diretta. Con Max Brigida stamattina stiamo viaggiando in giro per l'Europa, la sua esperienza e il racconto appunto dei suoi primi anni di formazione ci hanno portato a Londra dove prende una laurea e perfeziona la lingua inglese, ma acquisisce anche altre lingue come lo spagnolo, però adesso Max ci devi fare capire che cosa fai nella vita e dove. Allora oggi mi occupo di tecnologia, di digitale, di imprendimento digitale, anche perché è qualcosa che mi è sempre piaciuto, dai primi sms che ricevevamo sui famosi cellulari, perché ci rende la vita più facile, più semplice, velocizza i processi e questo è qualcosa che ho capito che serve tanto all'essere umano e sappiamo tutti, insomma, grazie all'uso della tecnologia la nostra vita che cosa è diventata, ma poi per l'azienda questo si amplifica all'ennesima potenza. Quindi mi occupo di digitale, io oggi vivo, sono un pendolare fra Barcellona, città che ho conosciuto durante gli studi, ho detto questa è la mia città perché è una Manfredonia più grande, c'è il mare, dietro c'è la collina, quindi la San Giovanni Rotondo, la Monte Sant'Angelo, io sono molto legato al mare, quindi ho dovuto per forza cercare una città che mi potesse dare delle opportunità e che avesse il mare, in Europa ce ne sono poche, Barcellona, Valencia, Genova, Algeri, che ho anche vissuto, e Napoli, cioè ho feci proprio uno studio e capì che Barcellona era quella che, in base a quello che io cercavo, era la città dove dovermi fermare. Quindi sono arrivato dopo varie peripezie, vivendo in Africa, dopo ho conosciuto anche quella che poi sarebbe stata la mia moglie, che mi ha dato due figli fantastici, ho vissuto negli Stati Uniti, dove ho capito l'importanza anche della tecnologia e dei software che ci aiutano, oggi tutto sono software, tutto quello che usiamo, usiamo tantissimi software, forse neanche ci rendiamo conto, in questa televisione ci saranno almeno una decina di software per fare quello che stiamo facendo oggi tu ed io e per mandarlo anche online, prima magari era solo in televisione, oggi so che siamo anche sulla pagina web padre.tv. Quindi mi occupo di digitale, ho creato un'azienda negli anni che fa un software di marketing ed ho capito che niente, non c'era nulla, adesso stiamo vedendo anche la nuova avventura, non c'era nulla che andasse a spingere, a promuovere, a dar forza ai software italiani. Quindi mi faccio, ho capito che noi oggi il Made in Italy è grandissimo, no? Noi andiamo fuori all'estero, immagina che ci sono più di 650 miliardi di euro esportati grazie al Made in Italy. Questo deriva dalla moda, ovviamente conosciutissima, dal design, siamo conosciuti in tutto il mondo per il design, per l'arte, per il cibo, per le auto di lusso, ma non c'è niente che spinga, promuova il tech, il tecnologico italiano, quindi i software italiani. Di lì lancio un'iniziativa chiamata softwareitaliani.com dove creo un podcast, intervisto tutti i founder e riceo di software italiani, poi creerò adesso in parte anche l'osservatorio dei software italiani e finalmente qui lo vedo, IS Week, che è il primo evento in Italia interamente dedicato ai software italiani e alla tecnologia Made in Italy. Quindi su questo parco, sarà online quest'anno, su questo palco virtuale inviteremo tutti gli esponenti, più grandi esponenti, della tecnologia italiana. In Italia abbiamo tantissimo talento, basti pensare che alla testa di tutte le più grandi aziende mondiali c'è sempre un italiano, che sia nel campo finanza, che sia nel campo marketing, che sia nel campo strategia, c'è sempre un italiano. E quindi creare questo movimento, questo ecosistema di tecnologia Made in Italy è qualcosa che devo dire è iniziata poco meno di un anno fa con dei risultati pazzeschi. Questa è nella prova, siamo qui insieme oggi anche perché, insomma, sono Manfredonia, ci siamo contattati e tu hai trovato subito interessante questa iniziativa. Sì, anche perché hai il grande merito di porre questo accento su questa tecnologia che tanto accompagna le nostre giornate. Quotidianamente siamo tutti quanti ormai iperconnessi per fare qualsiasi cosa, non solo per entrare in contatto con le altre persone, ma molte volte per fare degli acquisti, prenotare un volo, piuttosto che una visita medica. Per cui riconoscere la creatività e l'intelligenza prettamente italiana e applicate anche alla tecnologia è qualche cosa che andava fatta e a te il merito di questa intuizione è anche il ringraziamento, perché ovviamente porterai nel mondo una tecnologia firmata appunto in Italia, con questo marchio del Made in Italy. Il tuo racconto è molto appassionante perché è la tua una vita sostanzialmente senza tregua, perché non ti fermi mai, nonostante come dicevi prima sei anche diventato genitore e quindi alle tue avventure professionali si è accompagnata questa avventura familiare. È un'avventura nell'avventura però, qui vediamo in questo splendido scatto, perché tu sei papà di due splendidi bambini, di due splendidi ragazzi, Marcello e Luis, qui vediamo Luis che è accanto a te. Dicevamo, la storia diventa ancora più appassionante, più particolare e ce lo spieghi tu stesso. Guarda, ho la fortuna di diventare padre, quando vedo queste foto mi riempie il cuore di gioia. Ho avuto un figlio stupendo, Marcello, che ha 17 anni oggi, e poi Luis che è venuta un po', come tu dici, no? Magari hanno capito lì, al di su, chi decide certe cose, che la mia vita non era così caotica, dovevano aggiungermi qualcosa. Quindi nasce la mia principessa, la mia seconda figlia ed affetta col signor Medidown. Posso assicurarvi che non è qualcosa di divertente quando te lo annunciano, perché non sai che cos'è, semplicemente. E quindi ti viene il mondo, ti crolla il mondo addosso. Pensai, non potrò fare più nulla, cosa faccio? Ma invece con gli anni, o con i giorni, subito, ho capito che è la più grande fortuna che mi è capitata oggi, perché grazie a lei e i miei figli, ma grazie a lei in particolare, mi fa capire che nulla è impossibile. Che loro hanno una forza incredibile, hanno un sorriso pazzesco, sono sempre felici, la vita per loro è fantastica. Lei ti vede e ti abbraccia. Non ti conosce, però ti abbraccia. E questo mi ha fatto crescere innanzitutto come uomo, perché comunque ho avuto una figlia a 30 anni, prima avevo 30 anni, la seconda a 34, sono diventato uomo molto più in fretta, e per questo lo ringrazierò sempre. E ovviamente la vedo lì, ed è sempre pronta a scherzare, un po' come me, sempre pronta a qualsiasi avventura, non si ferma mai, quindi è stato, è ed è stato e sarà una palanca per me importante. Voglio anche dire che normalmente quando si ha degli shock, perché questo è un shock a tutti gli effetti, oggi mi vedete sorridente, lo sono sempre stato perché sono un positivo di natura, però questi shock bisogna saperli vivere, bisogna saperli vivere, ma soprattutto fare una leva, non piangersi addosso, ma farsi una leva. E per fare questo hai bisogno di un processo, che è il perché mi è successo, sei arrabbiatissimo con il mondo intero perché non lo accetti, e poi c'è l'accettazione. Sono questi tre step, quanto prima li fai, prima vivi bene. Se non accetti, perché c'è molta gente che non lo accetta, non vivi bene tu, ma non vivono bene anche loro, e neanche chi ti circonda. Quindi con questo in mano io oggi aiuto anche genitori che ricevono la notizia, come l'ho ricevuta io, tua figlia hai sindrome di Down, ti cade il mondo. E quindi vado, mi sono fatto portatore di questa attività, che è un'attività senza fine di lucro, cioè io sono un volontario negli ospedali di Barcellona appunto, e lo farei anche negli ospedali di San Giovanni se mi chiamano, quando delle famiglie ricevono la notizia che il suo bambino ha sindrome di Down, io ci vado a parlare. Perché non ho mai avuto, quando a me è successo, venivano i dottori, ma sai sono bambini, vabbè ma tu, ma quando vai a casa tu non ce l'hai, non mi serve la tua esperienza, no? Invece io porto questa esperienza e vedo negli ori occhi quella felicità, quella speranza, che io magari non avevo, perché non sapevo cos'era. E chiudo con una frase su lei, su tutto anche questo mondo, all'inizio non sapevo cosa fare con lei, oggi non saprei cosa fare senza di lei. Wow! Questa è una frase che lessi una volta ed è incredibile, ed è vero, e tutti quelli come noi genitori, tra virgolette, speciali, ti potranno dire questa è la frase perfetta per questo tipo di situazione. Grazie Max, la tua è stata una testimonianza molto molto bella, hai una vita da romanzo praticamente, ed è stata una missione titanica racchiudere tutto in così pochi minuti. Io quello che mi sento di dire con grande spontaneità è di invitare i nostri telespettatori a seguirti, perché senza dubbio potranno trovare tanti motivi di ispirazione, di riflessione, perché no, ecco, magari direttamente o indirettamente costruire con te anche un pezzo di vita insieme. Questa è una cosa che mi auguro a partire da me stesso, perché sei una bellissima scoperta, una risorsa del nostro territorio che è diventato un seme, che è diventato una pianta con tanti fiori e tanti frutti che sono germogliati, come abbiamo visto, in tante parti di Europa e del mondo. Adesso vivi a Barcellona, però sei comunque sempre in contatto con la tua città, la tua Italia, di cui sei diventato ambasciatore del Made in Italy tecnologico. E ecco, processo che troverà questo primo focus il 24, 25 e 26 maggio con His Week, spero di averlo pronunciato bene. Perfetto. Nel quale appunto poi tornerai sul tema dei software italiani e di questa tua mission nell'esportare il Made in Italy tecnologico con tutto il background che ci hai raccontato e che fa di te davvero una persona da seguire. Per cui grazie ancora per essere... Grazie a te. Volevo solo dire che l'azienda His Week è basata a Manfredoni, quindi... Ah, bene. Sono venuto qua, sono molto legato al territorio, ci vengo spesso, ci passo tre, quattro mesi all'anno divisi in varie settimane e giorni. Grazie davvero. Questa è un'altra bella notizia, perché velocissimamente un altro dei temi che abbiamo toccato, quelli dei cervelli in fuga, ecco, viaggiare non è assolutamente un limite, è una risorsa, è un'opportunità e tu ce l'hai dimostrato. Quello che sarebbe bello per il futuro è il fatto di non essere costretti a partire e di avere la possibilità di scegliere anche di ritornare o comunque di fare tante cose contemporaneamente come fai tu e da questo punto di vista sei veramente un grande esempio. Grazie Max, spero di ritrovare. Parti presto e di raccontare nuove storie al nostro pubblico. Buon proseguimento di giornata. Anche a voi, ciao, grazie.